Il Carnevale di Fogliano Il Carnevale sia un carro coloratissimo dedicato alla smania da social network. Sul carro un folletto con in mano un paio di grosse forbici, alle sue spalle mostre e ciattoli che non sollevano mai lo sguardo dal display del loro tablet. È stato poi il turno del cantiere Bombolo che invece ha dedicato il carro alla divinità Helios che scandisce l'alternarsi del giorno e della notte. Il cantiere dei rustici con l'importante che la morte ci trovi vivi vede appunto la morte in primo piano, la quale stanca del troppo lavoro decide di far festa. Moderne follie invece il carro degli azzurri, il tema centrale è quello della solitudine legata ai social network. I carri sono stati giudicati da una giuria di esperti che si sono già espressi nel verdetto ma che rimarrà segreto fino all'ultima domenica di carnevale, quella del 5 marzo.